Sala 2, il numero dei casi di meningite nella provincia di Arezzo dall'inizio del 2016. Per quanto riguarda la Toscana invece gli episodi sarebbero in totale 5. L'ultimo episodio è avvenuto solamente qualche giorno fa. Una signora di 47 anni, a retina, è stata colpita da meningite. In questo caso il siero gruppo sarebbe W o Y. Le condizioni della signora sarebbero stazionare e in via di miglioramento. Fortuna ha risposto molto bene alle terapie intraprese in maniera molto tempestiva. Sta migliorando decisamente, quindi ci fa piacere comunicare anche agli amici che hanno avuto contatti con lei che la situazione è stabile. Diciamo che l'emergenza continua in prosecuzione di quello che abbiamo già osservato nell'anno passato. Abitualmente, ecco, la meningite più frequente in Italia dopo la disponibilità della vaccinazione contro il meningococcoci da calendario vaccinale, quindi l'ampia copertura dei bambini, era caratterizzata proprio dai casi di meningite B. In realtà, invece, la particolarità in regione toscana è che c'è stata questa diffusione molto ampia di meningite e setticemia, sepsi, da meningococco C, perché purtroppo sta circolando un sierotipo particolarmente aggressivo e virulento. Per cui l'unica arma di prevenzione è rappresentata dalla vaccinazione su ampia scala. Arezzo, a livello regionale, è la seconda USL come copertura vaccinale. Abbiamo due fasce di età che sono particolarmente buone, insomma, per vaccinarsi. La prima è la fascia fra gli 11 anni e i 20 anni. Ecco, in questa fascia di età, nell'ultimo anno, abbiamo vaccinato circa il 62% dei ragazzi. Ma anche nella fascia di età successiva, cioè fra i 21 e i 45 anni, chiaramente i numeri sono, le percentuali sono più basse perché sono tantissime persone in questo ambito, siamo intorno al 16% di copertura.